Bussi sul Tirino, il Ministero dell'Ambiente prosegue la battaglia in sede giudiziaria. Questa l'ultima puntata dell'anno dell'infinita telenovela riguardo la bonifica di uno dei siti più inquinati d'Europa. Roma sceglie di fare ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tardabruzzo che lo scorso 3 dicembre aveva dichiarato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto che aveva giudicato i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B. Quella stessa gara che era stata aggiudicata e difesa contro i ricorsi degli esclusi proprio dal Ministero dell'Ambiente ma ora questo la disconosce e rinnega. Il ministro Sergio Costa pretende che sia Edison ritenuta responsabile del disastro non solo a pagare la bonifica ma anche ad effettuarla una volta presentato un progetto. La decisione di Roma è giunta all'indomani della lettera spedita dal governatore Marco Marsilio in cui il 28 dicembre chiedeva a Costa di soprassedere dal ricorso una missiva questa a cui il ministro evidentemente non ha dato alcun peso e di ricorso in ricorso intanto la Edison si è appellata in Cassazione ultimo grado di giudizio per accertare le responsabilità del disastro ambientale responsabilità che secondo provincia, tar e Consiglio di Stato sono tutte della multinazionale dell'energia. E vi è anche un terzo ricorso da dover risolvere quello della Decdeme, il colosso belga che aveva vinto la gara d'appalto ed era pronto alla bonifica che poi Edison in caso di conferma da parte della Cassazione avrebbe dovuto risarcire. Insomma il 2021 si prospetta un anno di battaglie legali, di tribunale in tribunale, di procedimenti giudiziari e scontri fra istituzioni che non potranno far altro che ritardare ulteriormente la bonifica bonifica che ad oggi rimane un miraggio indefinito e il 2021 sarà anche il tredicesimo anno dalla scoperta delle discariche l'ennesimo anno in cui tonnellate di rifiuti tossici rimarranno seppellite nel cuore d'Abruzzo rifiuti che fanno della Val Pescara la zona della regione con il più alto tasso di patologie riconducibili agli inquinanti.